Buongiorno a tutti, buona domenica e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video vediamo perché negli ultimi giorni si sta parlando moltissimo di pensioni più basse nel 2025. Purtroppo la notizia ha un fondamento ben preciso. Vediamo insieme tutti i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace all'interno del video per continuare a supportarci. Grazie. L'aumento del costo della vita ha un impatto immediato riducendo il potere d'acquisto dei pensionati. Il governo è quindi intervenuto con aumenti pensionistici più elevati del consueto. Questi aumenti però purtroppo sono temporanei e quindi a rischio per quanto riguarda il 2025. Proprio per tale ragione si prevede che nel 2025 le pensioni subiranno una diminuzione. Ecco la preoccupante realtà che è emersa negli scorsi giorni. È stata la legge di bilancio del 2023 a determinare un aumento aggiuntivo alle pensioni, un surplus rispetto al consueto incremento per la perequazione annuale. Nella manovra finanziaria del 2023, come confermato dal messaggio IMS numero 2329, è stato stabilito un aumento straordinario per quanto riguarda il bienio 2023-2024. Nel 2023 l'incremento è stato dell'1,5% per i pensionati sotto i 75 anni e del 6,4% per quelli oltre i 75 anni. Nel 2024 l'aumento del 2,7% è stato senza distinzioni di età. Nel 2025 la situazione potrebbe peggiorare, le risorse sono scarse, il governo fatica a varare la riforma delle pensioni. Anche confermare gli aumenti straordinari ormai sembra quanto improbabile. È più probabile invece che nel 2025 i pensionati riceveranno un taglio sulle pensioni. Lo scenario è ancora da confermare ma le indiscrezioni indicano che la proroga dell'aumento straordinario è improbabile, rendendo quindi il bienio 2023-2024 un'eccezione. Le risorse per la prossima legge di bilancio sono scarse. A rischio non c'è solo l'aumento straordinario per mantenere il potere d'acquisto delle pensioni ma anche le proroghe dell'ape sociale dell'opzione donna e quota 103. Si parla persino di un peggioramento delle condizioni per i quotisti con l'età che potrebbe salire da 62 a 63 anni per chi ha completato i 41 anni di contributi. Questo dunque quanto aspettarci per il prossimo anno. Voi cosa ne pensate? Fatecelo come sempre sapere qui sotto nei commenti del video. Grazie